La presenza di 1,2,4 trimetilbenzene ed esano, usati negli esperimenti Borexino ed LVD, nelle acque in uscita dai laboratori del Gran Sasso, torna a far suonare il campanello d'allarme nelle associazioni ambientaliste e in particolare nella mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. Le analisi sono state effettuate dall'Arta nello scorso febbraio, sui 100 litri al secondo mandati a scarico dai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quindi non utilizzati per scopi idropotabili, ma sversati nei corsi d'acqua del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'agenzia regionale ha rilevato la presenza di esano in due campioni raccolti l'11 febbraio 2019 nei pressi del laboratorio e più a valle presso l'imbocco nord galleria autostradale. L'1,2,4 trimetilbenzene è stato trovato invece quattro giorni dopo, sempre in un campione raccolto nella zona dell'Istituto. Nonostante le norme che vietano lo stoccaggio di sostanze pericolose vicino ad acque utilizzate per scopi potabili e che obbligano l'immediato allontanamento di quelle esistenti, secondo la mobilitazione dell'acqua del Gran Sasso non arrivano segnali da parte dell'Istituto sollecitato a consegnare a Regione Abruzzo i progetti per l'allontanamento delle sostanze tossiche. Quello accaduto a febbraio, sottolineano gli ambientalisti, è uno degli episodi di contaminazione limitati ma devono essere tenuti sotto controllo per evitare invece episodi più gravi, come quelli del 2002 quando fuoriuscirono decine di litri di trimetilbenzene mettendo a rischio la salubrità di un acquifero che serve una popolazione di circa 700.000 persone.